Jaden Smith, figlio di Will Smith, fa coming out e rivela chi è il suo fidanzato. Tra l'altro è un nome famoso e conosciutissimo. Jaden ha sempre fatto parlare di sé, soprattutto perché molto spesso si è presentato indossando degli abiti femminili. E a tal riguardo lui ha detto, Credo che le persone sono un po' confuse quando si parla di gender. Sento come se la gente in realtà non capisse. Non sto dicendo che io ho capito tutto. So solo dicendo che non ho mai visto alcuna distinzione, ad esempio tra abiti da donna o da uomo. Io vedo solo gente spaventata da una parte e persone accoglienti e comprensive dall'altra. Infine Jaden ha fatto coming out e ha deciso di dire chi è il suo fidanzato. E lo ha fatto, stando alle sue parole, contro la volontà del fidanzato. Perché il fidanzato in questione è Tyler, the creator. E Jaden ha detto, Tyler, the creator, è il mio migliore amico. E io lo amo così tanto. Voglio dirvi una cosa ragazzi, voglio dirvelo anche se Tyler non vuole dirlo. Ma Tyler è il mio fidanzato ed è stato il mio ragazzo da sempre. Tyler, the creator, è il mio fidanzato. È vero. E i due hanno continuato su Twitter perché Jaden ha scritto, Sì Tyler, l'ho detto a tutti e adesso non puoi negarlo. E Tyler ha risposto, mi sento libero, I feel free. Sarà vero, non sarà vero, chi lo sa, lo vedremo soltanto lasciando andare un po' il tempo e magari appariranno foto o altre dichiarazioni. No? No?